Ciao a te che stai vedendo questo video, bentornato al secondo appuntamento di Libri Giudicati dalla Copertina. Oggi parliamo di Alessandro Baricco, uno scrittore che ha avuto attorno a sé tutte le chiacchiere del mondo, però oggi ne diciamo una in più perché fa parte di Libri Giudicati dalla Copertina. A questo punto io vi dico giusto una piccolissima cosa introduttiva su Baricco, cioè che Baricco è nato nel 58, ho scoperto che ha compiuto gli anni a fine gennaio, quindi proprio adesso è stato il suo compleanno, quindi ha Uguni in ritardo, ha quasi 60 anni. È stato il primo scrittore, che io sappia, che all'inizio degli anni 90, conducendo dei programmi televisivi, ha avuto molta visibilità e quindi in un certo senso incarna una figura di scrittore nuovo che prima non ce l'ha mai stato, così perché è stato conosciuto da un pubblico televisivo molto vasto. Partiamo subito dal suo primo libro che è Castelli di rabbia, questo. Allora, che dico di questa copertina? Che non è la prima edizione. La prima edizione fu del 1991, aveva una copertina diversa. Se non sbaglio c'era una fotografia di un bambino in primo piano, in bianco e nero, nello sfondo qualcuno, tipo un bambino in classe, l'ho visto su internet un po' in piccolo, non ho capito bene. Questa è una ristampa che è stata fatta. Per Castelli di rabbia, penso che non ci sia bisogno di neanche spiegare nulla della trama. Perché? Ma perché semplicemente, secondo me, questa immagine qui, che unisce due quadri, quello sotto di Lionel Feininger, che è stato un pittore e anche fumettista, quello sopra è Tamara Delempicca, una pittrice di cui so poco e niente, però di cui apparezzo le immagini. Insomma, questa grafica qua, che si chiama Aurelia Raffo, unisce queste due immagini. La questione, secondo me, è molto semplice. È che qui, mo' che ci fosse scritto Castelli di rabbia, o che ci fosse scritto García Márquez, Cent'anni in solitudine, non cambia una virgola la questione. Piuttosto è meglio l'edizione che ha fatto la Feltrinelli qualche anno dopo, dove c'era una locomotiva rossa, ecco, c'entrava di più con quello che è il libro, insomma. Andiamo avanti con il suo secondo libro, Oceano Mare. Adesso, scusate che guardo un attimo la listina di quando sono usciti, insomma, Oceano Mare, 1993. Aveva 35 anni, baricco. Oceano Mare. Anche questa è una ristampa, non è la prima edizione. Ecco, in Accademia di Belle Arti questo blu lo chiamavamo blu isterico. È un blu un po'... insomma, è il blu isterico. Se fosse stato un pochino più spento o scaldato poteva, poteva, insomma, rendere un pochino meglio. Comunque, essendo Oceano Mare, un libro la cui trama, in un certo senso, risiede tutta quanta già nel titolo, direi che questa, questo, insomma, evocazione del mare con due pennellate velocissime incassate e buttate lì ci sta. Quindi, agli artisti di copertina, Alessandro Lecci e Alessandro Panzeri, io dico, avete evocato il mare con una pennellata velocissima incassata. Andiamo avanti, cosa che ha fatto dopo? Ha fatto, anzi, ha fatto 900 che l'ho letto, anzi, preciso che tutti i libri di cui parlo oggi qui, di cui ho le copertine, li ho letti. Non sono tutti i miei, quattro le ho dovuti prendere la biblioteca, Taroni, di Bagnacavallo che qui ringrazio, perché sono sempre, sono le mie amichette simpatiche, sempre molto carine. Allora, 900, non ce l'ho, però l'ho letto, da qui è stato fatto il film di Tornatore. 1996, il 38enne Barico pubblica Seta. Ed è questo, prima edizione, preziosissima. Ecco, di questo qui si potrebbe dire addirittura non solo libri giudicati dalla copertina, ma anche libri giudicati dalla carta di copertina. Perché? Qui Larissoli ha fatto un'operazione che mi intrippa. Mi intrippa. Cioè, ha usato una carta per la sovracopertina che è piacevole da toccare, né ruvida né troppo liscia, sembra unta a qualche cosa veramente di bello. Cioè, al tatto evoca l'Oriente. Lo stesso Oriente, per la precisione, il Giappone, che fa da sfondo a questa storia, che parla di un ragazzo di 32 anni che di lavoro commercia bacchi da seta. in questo suo viaggio di lavoro si incontra una ragazza giapponese che grazie ai cartoni matimanga, tutti quanti noi trentenni, quarantenni, ne sappiamo apprestare il fascino. Insomma, beh, c'è una storia con questa tipa qua. Ecco. Secondo me questa copertina è soltanto bellissima. Cioè, l'ideogramma fatto da Toba Chiba, non so chi sia, però ci sta. Ci sta. Ah, ecco. Ho sentito raccontare da Baricco questa cosa qui, che dopo che ha fatto seta, che fu un libro di grande successo economico, tutti quanti gli editori gli dicevano, faccio un altro libro tipo seta, insomma, tutti quanti rivolevano seta. E lui, insomma, era molto pressato da questa cosa qui, ad un certo punto ne è uscito fuori con questa cosa, con un libro diversissimo da seta, perché seta ha quattro personaggi in croce e questo qua ne ha tipo 15, 20, non mi ricordo quanto, giocando semplicemente sul titolo. Non più seta, ma city, in inglese, city, città. Ecco, questo in realtà è stato il primo libro che io ho avuto fisicamente in mano di Baricco. Nel 2013, avevo già 29 anni suonati, una sera ero con degli amici ad un centro sociale dove andavo raramente e malvolentieri, comunque mi sono fatto accompagnare in questo posto, c'era una libreria dentro, libreria di libri che si potevano prendere gratis, e io così un po' per scherzo ho preso questo qui gratis, ho detto vabbè tanto è gratis, ero anche un pochino sforcugliato da questa copertina che in questo momento mi sembrava improponibile. Dopo alla fine spiegherò perché a fine 29 anni non avevo mai letto Baricco, eccetera. Comunque, City è un libro molto composito, diciamo come un mosaico, diciamo ci sono due piani, cioè un piano del reale dove c'è un ragazzino che si chiama Gold, molto dotato di testa e ha una badante, cioè sì, una badante, una ragazza giovane che lo vada, insomma ci sono i loro dialoghi, il loro rapporto, poi ad un certo punto ci sono delle storie parallele, c'è una storia di Pugilato e c'è una storia Western, dopo un po' comincio a capire, se non ho capito male leggendolo, ma mi sembra così, comincio a capire che la storia di Pugilato se la immagina lui il ragazzino e la storia di Western se la immagina lei, quindi sono due persone che hanno un'attività psicologica molto forte e così. Ecco, questa copertina che non è che mi fa impazzire, per carità, però nel suo essere un pochettino illustrativa, vediamo chi è che l'ha fatta, Marco Scuto, ecco, Marco Scuto in questa copertina un pochino illustrativa è riuscito a beccare, vabbè, qui c'è una scatola con dei guantoni da box, qui c'è, c'era qualcos'altro, non mi ricordo, c'è una foto di Walt Disney, vabbè, ci sono dei riferimenti al libro, insomma, la Feltrinelli, lo stesso libro, lo ristampa qualche anno dopo, ecco, e secondo me qui, vabbè, vabbè City, ok, mi vuoi dare l'idea con quattro finestrine, ma questa copertina è triste, cioè, City è un libro che gioca con il linguaggio, è un libro che gioca con gli stili, insomma, vabbè, insomma, secondo me sono state fatte copertine migliori. Dopo, dopo di quello, è uscito questo Senza Sangue, romanzino corto di cento pagine, praticamente, ecco, di questo, Barico all'inizio dice una cosa, dice, i fatti personaggi raccontati in questa storia sono immaginari e non fanno riferimento ad alcuna realtà particolare, la scelta frequente di nomi spanici è un fatto puramente musicale e non deve suggerire una collocazione temporale o geografica alla vicenda, ok, quindi, Barico ti dice, non voglio, non voglio dargli connotati a questa storia qui, ok, grafico, chi sei, mucca design, mi metti uno scarabocchietto in rosso, allora, che cosa mi vuoi dire, cioè, spero che il rosso non sia un'allusione al sangue, eh, cioè, io spero proprio di no, senza sangue, scarabocchietto rosso, dico, ma, se lo scarabocchietto fosse stato verde scuro, o se non ci fosse stato, quanto poteva essere bellissimo, vabbè, se l'hai giocata così. Poi Barico ha fatto, adesso mi sono dimenticato di dire le date, non so se per qualcuno di voi erano importanti, 2004, 2004, Barico ha fatto questa, una riscrittura dell'Eliade di Omero, ecco, qui la copertina è di Toccafondo, ricordiamoci sempre di lui per la pubblicità della Sambuca Molinari, degli anni 90, forse siete troppo giovani e non l'avete vista, comunque, tocca a fondo, gran copertinista, che, insomma, ne ha fatte molte, ecco, secondo me questa copertina qui, ancora una volta, non è che mi manda fuori di zucchina, però, dai, c'è una fotocopia del libro, che è scritto in greco, insomma, mi sembra una giusta, giusto, giusto, giusta trasposizione di quello che dovrebbe essere. Barico ha riscritto l'Eliade tagliando molte cose e con un linguaggio giovane, pieno di pulsioni, frizzante, eccetera, ottima, ottima operazione. Dopo di quello che c'è stato, ah, ecco, ecco, mi dispiace di non averlo, però, insomma, un libro che ha fatto dopo, uscito nel 2005, per le edizioni Fandango Libri, il romanzo si chiama Questa Storia ed è una storia che ruota attorno all'automobilismo, alle corse delle macchine. Per quell'occasione lì Barico ha chiesto a tocca a fondo, sempre questo copertinista qui, illustratore, pittore, ha chiesto a tocca a fondo di fargli quattro copertine diverse che uscirono contemporaneamente, quindi tu potevi potenzialmente collezionarti quattro copie dello stesso libro con quattro copertine diverse, ma, ahimè, non ne ho nemmeno una. Però, idea carina. Ecco, 2009 e Mouse. Per Mouse, che è una storia, perché Barico ha sempre fatto storie di pure invenzione, che, diciamo, all'apparenza non c'entrava una cippa con quella che era la sua vita vissuta. Per Mouse fa uno strappo alla regola e racconta una storia della sua adolescenza, ma mi limito a dire che la prima edizione, Feltrinelli aveva una copertina finalmente totalmente bianca, è stata rifatta da illustrazione ale più ale, vabbè, e come vedete non è totalmente bianco, c'è un senso di ciosso, cioè di sporco, di una superficie ruvida. Vabbè, poteva anche rimanere bianca. Per Mouse, insomma, che era il libro della sua adolescenza, posso dire, posso fare una piccola parentesi della mia adolescenza, di quando avevo 17 anni e, infatti, di letteratura ero molto arrogantello. Insomma, avevo conosciuto in chat una ragazzina che si firmava Nambi. Nambi, dopo l'ho conosciuto di persona, siamo diventati amici e abbiamo fatto lo stesso liceo artistico. Ecco, questa Nambi mi consigliava di leggere Baricco e io avevo questo pregiudizio a 17 anni che era, Baricco no, non va letto perché è quello che adesso vende di più sul momento, quindi per forza di cose scrive cazzate, lascia perdere Baricco. Dicevo, Nambi, lascia perdere Baricco, prima c'è Bukowski, prima c'è John Fante, prima c'è Carver, prima c'è John, insomma, invece c'era tutta una lista di scrittori, cioè prima c'è Jack Frushant uscito dal gruppo, no, eccetera. Passano gli anni, mi levo di dosso sti 17 anni della minchia, cresco. appunto, quando ne ho 29, trovo questo qua al centro sociale dove andavo sempre malvolentieri, quasi mai, lo prendo, un annetto dopo, un giorno ero in casa, non sapevo che cacchio fare, ho provato a leggerlo, proprio senza dargli un centesimo, mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi sono gasato, me lo sono letto in due pomeriggi, ho scritto in chat a Nambi, ho detto Nambi, sono passati 13 anni, ma finalmente mi sono letto siti di Baricco, soltanto bellissimo, e lei mi fa, bene, mi fa piacere, Baricco non mi piace più, ora leggo Harry De Luca. Il libro che ha scritto dopo Baricco è Mr. Gwynn, parla di uno scrittore che dopo aver scritto libri ed aver avuto un coccente successo vuole smettere, vuole smettere di fare libri ma non di scrivere, tanto che ha l'idea, fare ritratti a delle persone in forma scritta. Vabbè, insomma, questa copertina l'ha fatta Duccio Boscoli, che è anche un fumettista, di cui ho letto una volta una storia breve. Ecco, questa copertina l'apprezzo, l'apprezzo, e insomma, mi ha fatto pensare a un film di Nanni Moretti che si chiama, se non sbaglio, Sogni d'Oro, dove lui, a un certo punto, legge una recensione, scazzà, insomma, è disturbato questa recensione, dice non fii un esordio di questo regista che ha il cinema nelle vene. Ecco, qui fa pensare a uno scrittore che ha la letteratura sui polpastrelli, ecco, insomma. Ma questa immagine non ci fa forse anche pensare a una citazione di Giuseppe Penone, che è un artista concettuale, per cui, insomma, Giuseppe Penone ha detto respirare è scultura e nell'impronta digitale... no, scusa, respirare è scultura e nell'impronta digitale è un'immagine pittorica. E' vero, è vero. Arriviamo a... Ecco, dopo di questo, dopo di questo, Mr. Gwyn ha scritto un libro metaforicamente collegato a questo, che si chiama Tre volte all'alba, che ha una copertina che apprezzo molto, con un semaforo, con un bel colore azzurrino, grigionnolo, scuro, insomma, con questo arancione che spicca, però non ce l'ho. Ecco, arriviamo al libro che è uscito un paio d'anni fa, La sposa giovane. Ecco, io qui ho proprio una cosa che ogni volta mi salta all'occhio e dico, ma se invece che tenere Alessandro Baricco e La sposa giovane sulla stessa linea l'avessimo avuto più banalmente, su due linee diverse, non era meglio. Cioè, Alessandro Baricco, La sposa giovane è così, raccorpi da una parte, fai respirare un pochettino l'occhio, vabbè. Quello è il discorso. Il discorso è che qui c'è un disegno che va sul fronte e sul retro. L'ha fatto uno che si chiama Tanino Liberatore, che è un gran disegnatore, è un fumettista. Tanino Liberatore. Tanino Liberatore, qui, secondo me, disegna a volume basso, proprio come se avesse in mano una Ferrari, la Ferrari è se stesso, e se si porta andavate questa Ferrari hai due chilometri all'ora. Però, vabbè, dice, non è importante sempre fare uno sfoggio di bravura quando disegni. Sì, non è sempre importante. Però, qui qual è il punto? Il punto è che Tanino Liberatore, per come l'ho conosciuto io e la maggior parte delle persone, Tanino Liberatore è stato l'autore di questo, Rank Xerox, fumetto di culto degli anni Ottanta. Cioè, per darvi un'idea, giusto un attimo così, cioè, Liberatore è questo. Liberatore è colori usati in modo allucinante, è Liberatore, ma Liberatore è sporchino, è ciosso, è bisunto, è grezzo, è l'underground fighetto, cioè, adesso non so se riesco a rendere bene, se l'immagine rende. Comunque, questo è Liberatore, non so come lo sto inquadrando. Ecco, il Liberatore grezzino, qui purificato, purificato in queste immagini, candida nel bianco, eccetera. Poi addirittura, parte del disegno è stato, cioè, il rosso contrasta con, eh, scusate, il blu contrasta con questo rosso messo col computer. Dico, ma perché? Cioè, ma lascialo così com'è, ma poteva starci anche in bianco e nero, volendo, oppure, lascialo, non lo so, guarda, vabbè. Ecco, ecco, niente, di baricco ho, non ho qui, diciamo, soltanto i libri che sono stati i suoi saggi, non ho quelli, ne ho scritti vari, alcuni li ho letti, non tutti, ricordiamo Barnum, ecco. Basta, penso che sia tutto. Basta, basta. Baricco è uno scrittore che consiglio, se potreste proprio cominciare da City, il primo che ho letto io, mi sembra proprio il libro più, che contiene dentro di sé vari generi, appunto, western, pugilato, critica alla nostra società moderna, ironia, ironia, citazionismo, cose imprevedibili, quindi vi farei cominciare da City. Perché siamo al secondo appuntamento di Livio Giudicato della Copertina e siamo a baricco? Perché quello che io vorrei fare è portare la rubrica proprio partendo dagli scrittori di cui si è già straparlato e gli scrittori che non avrebbero bisogno di un'ennesima rubrica che si dedicasse a loro, perché questa appunto è una rubrica peluche, quindi voglio proprio partire dal superfluo, per poi arrivare a non so cosa, si vedrà. Quindi grazie per il tempo che abbiamo trascorso insieme, sfalsato perché io l'ho fatto adesso, voi lo vedrete chissà quando, comunque grazie ancora e a presto per queste chiacchierine. Ciao!